Salve. E poi oggi ci sono tutti o perlomeno il dottore che fa prima dell'allenamento chiama sempre un po' quelli che il giorno prima hanno manifestato qualche piccola difficoltà e nel chiamarli poi mette insieme grosso modo perché in base al tipo di allenamento che è abbiamo bisogno di giocatori quindi li dobbiamo reclutare dalla primavera. E secondo che numero ci vuole bisogna partire in anticipo insomma per preparare l'allenamento. Allora fa un'indagine un po' generale di quelli che non stanno benissimo e invece hanno risposto tutti i presenti per cui ci sono tutti anche se poi ci sarà da valutare insomma alcuni dettagli. Ecco che comporta sempre una partita di quel livello lì a 30 ore di distanza 45. Quanto ore sono? Un po' così insomma. Bene? Possiamo iniziare con le domande. Inizia Paesano Romaragio. Buon pomeriggio mister. Sì. Come si riparte dopo un derby perso 2 a 0? Allora si apre un mondo qui si apre è semplice una domanda però si apre la possibilità di tirare in ballo quello che è stato un po' il nostro percorso per arrivare qui. Quello che è il mio personale. Io da quando faccio questo lavoro qui ho perso, così voi avete qualche numero in più, ho perso circa 200 partite. Ho preso 700-800 gol. Noi da quando siamo qui si è giocato all'incirca 60 partite, se ne è ripersi 11, 12, 11, si è ripreso tanti gol. Tutte le volte che ho perso partite, tutte le volte che ho preso gol, ho avuto qualcosa da dire e soprattutto i giocatori hanno avuto qualcosa da fare. Su queste 60 partite ci sono 27 gare dove abbiamo fatto almeno 3 gol. Per cui nella prossima partita domani, ma anche la prossima che è il derby, perché poi è abbinata anche a quella lì la domanda, io avrò qualcosa da dire di sicuro e la squadra avrà sicuramente qualcosa da fare. E probabilmente non sarà facile, ma sicuramente non sarà impossibile. Vespasiani, Roma TV Eccoci, buongiorno mister. Domani è una grande partita, una classica, lo possiamo dire, del campionato italiano. C'è arrivano due squadre fortissime, entrambe un po' ferite dalla Coppa Italia. Questo può pesare psicologicamente più per l'una, più per l'altra. Che partita può venire fuori? Allora, la partita di domani è una partita difficile per troppi motivi, delicata, difficile. Dove ci vorrà tantissima attenzione, dove ci vorrà tantissima forza, tantissima qualità. Perché penso di poter dire la stessa cosa di loro. Anche se io penso di aver già detto tutto del Napoli, di quello che penso, sia di Sari che del Napoli. Per cui non domandatemelo, perché i Sari siamo vissuti nella stessa terra e sappiamo quando è il momento di mandarci messaggi e quando è il momento di pensare al proprio orticello. E ora è il momento di pensare a casa nostra. Però, quello che mi sembra corretto e che possa dire, è che anche il Napoli è una squadra matura. Qui mi riferisco più a miei. I nostri calciatori ci hanno costretti, noi, a definirli maturi. Per cui, dentro questa partita di domani, ci vorrà tutta la maturità guadagnata in questo percorso da dove siamo partiti. E mi aspetto quelle prese di posizione e quelle scelte dei momenti della partita dove ci vorrà il soffrire e saper difendere in maniera ordinata, il riuscire a capire che è quel momento giusto dove bisogna spingere, bisogna andare al di là di quelle che sono le reali possibilità del momento. Perché poi è vero che le partite sono ravvicinate e che portano via energie. Però noi non siamo stanchi, per cui dobbiamo andare a giocare questa partita con le stesse possibilità che ha il Napoli, anche se ha riposato un giorno di fio. Non si vuole far compassione a nessuno, non ci garba proprio a fare compassione agli altri. Per cui si gioca la partita a darmi pari contro un avversario forte che verrà a giocarla con le nostre intenzioni. E poi da ultimo si fanno altre considerazioni. Angelo Mangiante, Sky Sport. Sì, non siamo stanchi, questo è il messaggio. Sicuramente occorrerà molta intensità, forza sulle gambe, ritmo alto. Potrebbero essere utili per questo due giocatori freschi da primo minuto come Perotti e Cerawi. Non siamo stanchi e siamo pronti. Ci si può aggiungere, perché ci sta anche bene vicino. Noi siamo pronti, perché sapevamo di questo periodo qui e sapevamo che avevamo queste partite. Poi è chiaro che quelli che sono obblighi, rapporti, possibilità, un giorno più, un giorno meno, però c'era questo pacchetto qui di gare da fare. E questo pacchetto può comportare che si possa cambiare qualche calciatore. E probabilmente sarà così anche domani. Però ugualmente squadra nelle condizioni di fare la partita e di fare un buon spettacolo, come l'ha sempre fatto. Come l'ha fatto anche nel derby, perché l'ho rivista bene questa partita qui. Insomma, tutta questa differenza che poi si è voluto far venire fuori alla fine, è vero che è un risultato che ci penalizza in maniera importante, e che loro sono sicuramente avvantaggiati per la partita di ritorno. hanno una percentuale molto più alta. Però la partita noi l'abbiamo fatta e allunghi tratti molto bene. Ci sarà da correggere qualcosa? Che faremo nella partita di ritorno? Un'ultima cosa. Di fronte ai due migliori attacchi della Serie A, sono 117 gol in due, 60 e 57, quindi è una garanzia il fatto che può essere una partita con molte reti. A parte questo aspetto qui, qual è un elemento, un fattore, in cui la Roma è più forte del Napoli? Non c'è. Quando ci sono due squadre forti così, quando ci sono calciatori di questo livello qui, è difficile dire siamo assolutamente più forti in questo, anche se c'è un leggero vantaggio, però nella scelta del momento questo può essere annullato e l'altro può prepararsi prima a quello che succede, perché preparati a, perché può succedere questo. E a volte dentro la partita, anche se hai più qualità, l'altro si prepara prima o è più pronto per sfruttare quella situazione. Secondo me siamo due squadre forti, se no non potremmo essere lì a portare avanti questi numeri dall'anno scorso, da quando io sono arrivato fino a questo momento qui, perché io valuto quello che è stato il confronto in questi due periodi qui. sono due squadre di cui la società, i dirigenti, gli allenatori, possono andare, i tifosi, possono andare orgogliosi, perché si vede che c'è un lavoro professionale dietro e si vede che c'è una serietà di comportamento e di presa di coscienza proprio, di attaccamento, di identificazione a quelli che sono colori, di quelle vere. Per cui non ci sono grossi vantaggi dove possiamo dire spingiamo lì perché questa è la strada che ci porterà sicuramente. Ci sono delle cose che sappiamo fare, ma dove gli altri sanno sicuramente comportarsi. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Strottman ha detto, per quanto riguarda i V nei confronti di Rudiger, che dovrebbe occuparsi nella federazione. Visto che tra pochi giorni ci sarà l'elezione del presidente, se secondo lei bisognerebbe fare qualcosa di più e se è normale che un ragazzo giovane, con più oggi 24 anni, negli ultimi due derby abbia sentito un collega dirgli che vendeva calzini e cinture e poi abbia dovuto giocare l'ultimo derby con più di metà partita con i tifosi avversari che gli facevano debut, tanto che lo speaker dell'Olimpico li ha dovuti richiamare. Guarda, io penso che per arrivare alla pari con quello che è il calcio europeo, andando in giro a vederlo, quelle che sono poi le scelte in giro per il mondo, soprattutto che riguardano poi il tentativo di annullare il razzismo dal calcio, perché si fanno pubblicità a tutti i minuti, penso che ci sia bisogno di un percorso di posizioni etiche e vedere poi questi risultati senza nessun significato da un punto di vista di presa di posizione, secondo me non aiutano e ci fanno rimanere dietro quelle posizioni lì, ci fanno rimanere distanti da quello che è il calcio europeo. non vedo nessun significato educativo in quelle che sono queste prese di posizione, mentre bisogna, come fanno poi all'estero, essere ben decisi e attaccare chiunque evidenzi questo questo problema, perché è un problema delle persone in generale, essere razzisti. guarda, te la posso allargare, io avevo un amico carissimo in Toscana, molto conosciuto nel mondo del calcio, che si chiamava il raro e che era un non vedente, raro perché questo ragazzo aveva degli occhi azzurri importanti e però purtroppo era cieco, lo conoscono tutti, l'ha portato spesso in giro negli ambienti di calcio Montella, l'ho portato spesso io, Prandelli, Antonioni, probabilmente lo conosce anche Francesco e via dicendo. Lui quando avvertiva ad avere una persona avanti spalancava questi occhi come se ti guardassi, in realtà era un invito a dire chi sei, fatti conoscere come sei, perché perché non poteva dare valore al loro aspetto non vedendoli, ecco, i razzisti meriterebbero di vivere un po' da raro che così avrebbero la possibilità di considerare le persone per quello che dicono, per come sono fatte, per come si comportano, per come sono fatte proprio interiormente, che cuore hanno, anziché puoi andarla a valutare per il colore della pelle. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Torno un attimo sul derby ma dal punto di vista tecnico. Mi pare di aver capito che lei rivedendo la partita abbia notato più cose positive di quelle che aveva osservato a caldo quando parlò di gestione sbagliata del possesso palla, di errore nella scelta del traffico se non ricordo male. le chiedo se può spiegarci, visto che non è stato un calo atletico e ce l'ha detto prima, cosa è successo tra Milano e il derby? C'è stato un calo di tensione, la Lazio era più determinata, più in giornata, più in palla. Come mai questo blackout? A me mi sembra di averlo spiegato ma sentire quella che è la sua domanda mi sembra di averlo spiegato male. Spero che i miei calciatori abbiano capito meglio. noi si aveva il pallino in mano di quella partita. All'inizio si è fatto molto bene. Io volendo potrei dire anche dei minuti da riguardare con attenzione dove spiegano dove spiegano tanto. Però in questo avere il pallino in mano poi bisogna andare a giocare dentro il traffico nella tre quarti avversaria e lì diventa pericoloso. Perché? Perché se ci vai a giocare essendo distante da quei due che loro lasciavano per le ripartenze che sono Felipe che erano Felipe e poi Immobile Felipe Anderson Immobile è chiaro che questi messi in condizione con la qualità che hanno di velocità di poter ribaltare l'azione in un campo abbastanza largo poi devi essere bravo ad avere una distanza corretta perché quando gli viene trasferita la palla dal recupero a rigiocarla su piedi passa poco tempo se sei a dieci metri non fa in tempo poi a fare questo nonostante anche se sei vicino sono due anche abbastanza fisici che hanno retto botta anche nei contrasti da un punto di vista proprio di sostanza perché hanno fatto questo e loro hanno sfruttato diverse ripartenze su questo episodio qui all'inizio abbiamo fatto bene anche questo col passare di minuti un po' meno bene e hanno trovato qualche spazio da poterci poi attaccare in questi spazi concessi loro sono stati bravi a prenderci il vantaggio poi la partita si è sviluppata facendola sempre ma senza andare a sfruttare invece quegli ipotetici episodi importanti che nella ricerca siamo riusciti a crearci e loro hanno ribadito nello spazio vincendo un duello fisico fatto di velocità e di fisicità e hanno poi portato il risultato della partita assicuro per quella partita lì perché poi sono andati sul 2 a 0 per quel primo turno lì noi da ultimo si è fatto anche un forcing dove c'era il rischio di perdere proprio equilibrio nella sua totalità invece non abbiamo concesso molto e abbiamo fatto quello che dovevamo fare sotto l'aspetto del pressing ecco per cui riguardandola ne abbiamo parlato abbiamo siamo stati d'accordo su quella che è stata l'analisi e ora bisogna pensare a quella successiva di partita perché non è che si possa modificare quello che è successo ma bisogna assolutamente dare seguito a quello che è stato il comportamento in generale che ci ha portato a fare questo tipo di analisi su una partita persa perché sono poche per cui bisogna dare continuità a quello che è stato la scelta in generale fatta delle prese di posizioni delle partite a quello che è stato fatto come numeri a quello che è stato fatto come vittoria a quello che è stato fatto come classifica perché abbiamo una classifica importante non dobbiamo fermarci lì dobbiamo farne uso farne tesoro come si fa sempre poi dagli errori commessi però dobbiamo andare oltre insomma ecco siamo proiettati verso il discorso in generale l'obiettivo in generale futuro che avevamo preso di mira all'inizio del nostro percorso venghi il tempo buongiorno sì buongiorno proprio parlando di obiettivi dopo il 2-0 in Coppa Italia e con la Juventus che continua a macinare punti in campionato c'è un po' di paura che stiano sfuggendo di mano gli obiettivi della Roma che non si possa realizzare la sua ambizione la sua ossessione per la vittoria ma questa c'era anche prima di giocare questa partita questa c'è sempre non c'è sempre prima di ogni partita non si sa mai il risultato prima dell'inizio dell'anno mi avessero detto tu sei a questo punto del campionato a questa data qui io probabilmente non lo so mi sarei voluto giocare la possibilità di andare anche oltre ma mi sembra rispettoso quello che è stato il conseguimento di questi risultati da parte di questi ragazzi perché poi il confronto è sempre fatto con la Juventus perché la Juventus sta facendo un percorso miracoloso perché è la più forte di tutti abbiamo paragonato anche grandi squadroni europei e via dicendo questi numeri qui che stiamo portando avanti in questo momento qui sono quelli che l'anno scorso aveva la Juventus poi la Juventus è andata oltre ma anche noi siamo andati oltre a quello che avevamo l'anno scorso paura poi stride molto la parola paura mi dà proprio fastidio anzi mi stimola sempre un confronto perché vuoi farmi paura vediamo se effettivamente sei così brutto e cattivo da farmi paura per quanto riguarda lei poi non è così dopo il 2-0 di Coppa Italia anche magari quell'altro obiettivo quindi quello della Coppa Italia diventa un po' più complicato al di là della Juventus che fa il suo solo percorso loro hanno il 70% noi siamo il 30% loro hanno festeggiato noi non abbiamo festeggiato fa parte dei giochi fa parte della risultanza loro hanno mandato messaggi su tutti i telefoni il mio ce l'hanno tutti è pieno di messaggi degli sfottò molti sono vintage però è pieno insomma ecco il proprietario di casa mia è uno di quelli e mi ha detto di tutto in questi due giorni quando l'ho incontrato mi è venuto a mettere la cosina alla porta di casa cosa che io non ho fatto a lui e non ho fatto a loro quando quando poi è successo al contrario però va bene insomma ecco anzi posso aggiungere che sono tanti e la cosa che è giusta ma quello che non mi era mai capitato che sono avvenuti alla fine del primo tempo ecco e si fa quello che abbiamo detto prima si porta avanti i nostri numeri e si va poi a tentare di dire qualcosa sempre in considerazione di quello che è la differenza che ora abbiamo davanti perché è una differenza sostanziale però nonostante questa differenza io avrò delle cose da dire i giocatori avranno delle cose e faranno delle cose Pagnano Rete Sport buongiorno mister tra le domande degli ascoltatori arrivati in redazione ce n'è una che riguarda Luis Enrique che ha appunto annunciato che a fine stagione lascerà il Barcellona Capello a riguardo ha detto che la sua tempistica è sbagliata perché potrebbe appunto inficiare su delle dinamiche a livello di squadra lei condivide più la scelta di Luis Enrique o il pensiero di Capello grazie ho perso un attimo come sempre ogni tanto perdo sempre l'arche d'uno perché penso Capello ha detto sì sì no la sostanza che Luis Enrique ha detto precedentemente alla fine questo discorso qui Capello che cosa gli ha detto ha detto che la sua tempistica è stata sbagliata perché potrebbe inficiare su alcune dinamiche a livello di squadra probabilmente Luis Enrique ha note è messo peggio di me probabilmente Luis Enrique ha note è messo peggio di me per dare il via subito ha fatto quante note gli avete fatto no quante note come gli avete fatto a Luis Enrique eh neanche una nota nessuna allora perché dovrebbe essere io non lo so quello che è quello che è la la considerazione di questa possibilità di discorsi fatta lì o fatta qui perché potrebbe essere una differenza faccio per dire una cosa detta in un ambiente come quello di Barcellona in un ambiente come quello di Roma pensi sia una differenza oppure no come mai secondo me qui siamo più bravi a trovare da discutere di molte cose qui ci sono e qui probabilmente la cosa corretta per quanto mi riguarda poi sarebbe informare la società quando hai il confronto della società uno lo dice alla società e poi la società ne fa l'uso di quello che gli pare secondo me ci vuole un accordo con la società prima di una dichiarazione del genere la società deve essere informata però lì probabilmente è così qui no qui ci siete voi ci sono cacciatori di teste che tutti i giorni portano poi frequentatori al mondo del calcio portano poi una disquisizione sempre più importante su quelli che sono discorsi per quanto riguarda il calcio i cacciatori di teste sono quelli che portano dentro il movimento sono le radio portano dentro il movimento frequentatori portano beneficio portano contributo perché c'è proprio una passione dialettica io ci ho preso diverse parole c'è una passione dialettica su quello che è poi la disquisizione delle partite e quello che succede nel calcio e come ho detto sempre secondo me portano poi valore portano portano numero portano sostanza portano beneficio mentre tutti quando vado in giro ne parlano in maniera diversa però allo stesso tempo poi aprano dei dibattiti quotidiani e continui di 24 ore a volte fanno due ore di straordinario arrivano a 26 giorni e e qui è più difficile perché poi nell'andare a cercare poi quello che è l'aggettivo giusto si va a percorrere strade che poi non hanno il significato per come sono state dette anche per cui ripeto poi ho finito io penso che qui sarebbe giusto dirlo alla società per quanto mi riguarda se devo prendere una decisione se la società mi chiama io la risposta la do facciamo l'ultima Rosso Mando tele radio stereo salve mister io le volevo chiedere visto che si sta giocando praticamente una moto ogni tre giorni ad esempio se Geko magari visto che le gioca praticamente tutte non ha paura che magari a lungo andare possa iniziare ad essere anche un po' stanco visto che lei prima ci parlava dei giocatori non stanchi però Geko le sta giocando veramente tutte non c'è un cambio naturale ecco le chiedo magari sta pensando qui di cambiare qualcosa proprio per cercare di evitare che un giocatore così fondamentale possa risentire la stanchezza ma sai secondo me a Milano ha giocato una grande partita l'altra sera è stato sotto tono però per dire che è stanco ci vogliono due o tre partite perché è la ripetitività perché se no può essere una partita sbagliata capisci e la partita sbagliata può succedere uno che ha un valore assoluto come lui ne fa due o tre magari neanche complete in un certo modo poi è chiaro che gli può essere abbinato un po' di stanchezza ma per il momento secondo me bisogna fare come abbiamo sempre fatto con tutti avere i numeri che danno delle valutazioni i collaboratori e quelli i professionisti che sono a fare poi questa elaborazione dei dati le considerazioni scientifiche e poi anche un po' d'occhio che diventa la cosa più diretta e più pratica per andare a trovare la soluzione grazie grazie